eh che macchina eh guardate ragazzi rosso fuoco come la ferrari buongiornissimo a cattone benvenuti in un nuovo video siamo a Fuerteventura dopo un quattro ore che ci ha devastato siamo qui in aeroporto e adesso ci stiamo per dirigere verso Coraglio è stato un viaggio devastante quattro ore con un bambino che urlava siamo stanchi ma felici e ora andiamo a prendere la macchina siamo sardi vediamo capre ci fermiamo finalmente siamo arrivati a casa ce l'abbiamo fatta ringraziamo jesus di airbnb quindi se volete prenotare una casa qui a Fuerte vi consigliamo jesus perché questa casa è veramente bella abbiamo speso soltanto 200 pound che equivale circa a 240 euro guardate che vista perfetta anche per fare i team leps il signor jesus ci ha consigliato un piatto tipico della zona come si chiama il piatto puntarillos de calamaros adesso andiamo a mangiare perché siamo stanchi si vede anche dagli occhi siamo pessimi bene sono le 5 10 abbiamo finito di pranzare ora dobbiamo andare a fare un po di spesa come prendere un dentifriccio perché l'igiene orale è importante ragazzi bene 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 Non potete capire cosa significa trovare l'estate dopo mesi che non ne bevi, che cotidio. Tiene 11 mesi che non ne bevi, che non ne bevi, che non ne bevi. Che bonito, siéntate, 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 si, da la patita. Che bonito, ciao bello, ciao, grazie, che buono. Siamo a casa. Bene Cattoni, il video di oggi è finito. Come al solito, se vi è piaciuta questa puntata, questo episodio, mettete un mi piace, condividete e ciao 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 ciao. Il polpo è arrivato e adesso noi mangiamo. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.